Forse non ce l'hai più, lo suono lentamente, dedicato alla festa agraria. Quale festa agraria? Tutte le feste agrarie del mondo, tutte quelle che vuoi, ma in Sardegna quante ne abbiamo? Poche adesso, una vina più, lo virtualizziamo, capito? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una penna, una penna da computer.